I finanzieri del comando provinciale di Salerno, in località San Marzano sul Sarno, hanno sottoposto al sequestro 9.203 litri di olio lubrificante per motore di contrabbando e denunciato un responsabile. Sono stati i militari della compagnia di Scafati, che insospettiti del continuo vievai di autovetture e furgoni nei pressi di un garage, hanno deciso di eseguire un controllo al suo interno. Il locale di circa 250 metri quadri è stato addibito a deposito per lo stoccaggio di ingenti quantitativi di olio lubrificante per motori, già confezionato in taniche di diverse misure e infusti da 200 litri, con i marchi dei più noti produttori. La totale assenza di documenti contabili doni e sostanziali...